A distanza di giorni dalle elezioni sembrerebbe non essere ancora definito il quadro degli eletti in Abruzzo. In forse l'elezione alla Camera di Giulio Sottanelli, questo a causa del cosiddetto effetto flipper, il complicato sistema nazionale di distribuzione dei seggi con i resti nella quota proporzionale, che ha spinto verso Montecitorio l'assessore terramano del PD Stefania Di Padova, ma a quanto pare l'ultima parola non è stata ancora scritta. Noi l'avevamo già detto in campagna elettorale che è una legge che andava rivista in senso proporzionale, soprattutto perché il quadro politico che oggi esiste in Italia con teoricamente quattro pollici, quello che è il Movimento 5 Stelle, il Centro Desce, il Centro Sinistra e noi come lista calenda. Quindi essendo quattro blocchi, una legge che ha una parte di maggioritario non è più appropriata rispetto a quello che rispecchia il Paese. Detto ciò, la legge è anche particolare perché sono dei calcoli importanti dietro e quindi magari dei tempi tecnici più lunghi per poter definire nel dettaglio il tutto occorrono. Quindi sono delle proiezioni, ovviamente quelle che abbiamo visto sul sito di Eligendo, che è il sito del Ministero degli Interni, non sono ancora addirittura lì riportate tutte le sezioni, quindi c'è tutto un lavoro ancora da fare, penso che la proclamazione se ne passi ancora una settimana e siamo in attesa tutti dei risultati, quelli ufficiali veri. Ma nonostante questa situazione di incertezza, il segretario regionale di Azione ha già annunciato di essere al lavoro per le prossime amministrative in primavera e soprattutto per le regionali 2024. Azione ha ottenuto un grosso risultato in Italia e anche in Abruzzo, fatte le dovute proporzioni. Andiamo avanti ovviamente, il mio impegno continua. Siamo il primo partito tra i giovani da 19 a 24 anni. Tutti i giovani, anche sotto ai 30, risultiamo che la maggioranza ha votato azione, quindi noi siamo il primo partito tra i giovani e al nord siamo molto più forti rispetto al centro-sud. Ovviamente questo ci lascia contenti e quindi di buon auspicio per quanto riguarda il futuro, sicuro che il nostro progetto sarà sempre più apprezzato su base Italia.